Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata del Teacher Stefano Show! Come state? Benvenuti nella serie Conversazioni in Italiano, dove parliamo con persone che studiano l'italiano, che hanno imparato l'italiano o nel caso di oggi intervisteremo una persona speciale che è bilingue, quindi che parla l'italiano e un'altra lingua sin dalla nascita. Oggi parliamo con Clara! Ciao Clara, benvenuta! Ciao Stefano, grazie! È un piacere averti qua! Anche per me, grazie per l'invito! Prima di andare avanti, ti ricordo che se vuoi puoi scaricare la trascrizione parola per parola di questo episodio, con anche la spiegazione di alcune parole ed espressioni più difficili, cliccando sul link nella descrizione o visitando il mio sito www.teacherstefano.com slash podcast. Senti, vuoi parlarci un po' di te così puoi presentarti a tutte le persone che ci stanno ascoltando? Sì, allora, io sono Clara, beh, sono ancora una studentessa direi d'italiano, ma la mia storia è un po' diversa perché io non ho imparato l'italiano da adulta, ma ancora da bambina. Io sono nata in Brasile, ma la mia famiglia ha origini italiane e ci siamo trasferiti in Italia ancora quando io ero piccola. Avevo otto anni, quindi ho imparato l'italiano andando a scuola, ho fatto le scuole qui in Italia e poi a un certo punto ho iniziato a fare un po' avanti e indietro. Quindi, come sai, io in realtà vivo ufficialmente in Brasile, ma adesso sono in Italia perché ho ancora la famiglia qui, quindi vengo molto spesso. Ok, quindi non è dalla nascita, però comunque, diciamo... Dall'infanzia. Sei bilingue. Sì, 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 sì. Assolutamente. Quindi come funziona il cervello di una persona bilingue? È un casino. Infatti, guarda, in inglese si può fare questo gioco di parole. It's not bilingual, it's bilingual, perché... Ah, ok. Non lo conoscevo. Cioè, ti dimentichi le parole in tutte e due le lingue. No, però, scherzo. Cioè, sicuramente è un modo di poter vedere, insomma, pensare la vita da più prospettiva. Più sfumature di significato quando parli... Cioè, anche quando impari magari una terza o una quarta lingua, direi. Certo. Cioè, lo riassumerei così. E tu sei italiana da parte di tua mamma, giusto? Sì, in realtà avevo i bisnonni ancora. Cioè, l'origine è molto lontana, però sì, ho tutta la famiglia comunque che vive qua. Mia nonna è stata quella che è tornata, diciamo, tra virgolette, in Italia. Lei aveva i nonni italiani. Infatti, durante l'infanzia lo parlava ancora un po'. Ma poi... Cioè, aveva quel lessico, diciamo, familiare molto legato al dialetto della sua famiglia, che era del Veneto. Poi, però, crescendo in Brasile, andando a scuola così, ha imparato solo il portoghese. Mia mamma pure. E mia nonna è stata la prima a venire in Italia. Aveva 50 anni, quindi lei l'ha imparato in età adulta. Mia mamma pure. E io l'ho imparato andando a scuola, ancora da bambina. Quindi, cioè, ovviamente la mia famiglia vive qua da tantissimo tempo, lo parla, ma si vedono proprio le differenze anche di accenti, così, nelle diverse generazioni, no? È una storia molto, molto affascinante, eh? Sei fortunata, perché vivere in questo modo, tra due culture, sentirsi parte di due culture in questo modo, è una cosa che... è un privilegio che solo poche persone hanno. È vero, è vero. Torniamo un attimo al discorso linguistico. Quindi, tu sei bilingue. C'è una lingua con cui ti senti più a tuo agio, diciamo, tra l'italiano e il portoghese? Una lingua che preferisci magari parlare in alcune situazioni? Allora, sì, in realtà. E questo, però, secondo me ha molto a che fare con il posto dove sono. Cioè, se mi trovo in Brasile o in Italia. E dico questo perché sono cinque anni che vivo in Brasile. Quindi, diciamo che il portoghese è più presente oggi nella mia vita, anche se parlo l'italiano tutti i giorni. Ma se noto questa differenza, essendo lì da cinque anni, che ho l'influenza del portoghese, cioè è più costante, un po' più presente. E quindi, oggi ho un'influenza anche a livello di struttura della lingua. Cioè, ci sono certe strutture che ripropongo nell'italiano, no? A livello sintattico, semantico, così. Ma, appena sono arrivata in Brasile, è il contrario. Quindi, magari dicevo delle parole in italiano un po' brasilianizzate, oppure certe strutture che le ripetevo in italiano. E quindi, questa cosa mi capita oggi un po' di più con il portoghese. Ma adesso che sono in Italia, per esempio, per sei mesi, nel contesto tipo familiare, spesso usiamo tantissime parole in italiano, io e la mia famiglia, quando stiamo parlando in portoghese. Per esempio, siamo in cucina e diciamo, pega o bicchiere. Cioè, prendi il bicchiere, diciamo la parola, magari il verbo in portoghese, ma il bicchiere lo diciamo in italiano. Non so dirti perché, cioè la scelta della parola è il perché, ma succede, succede spesso. Questa è una cosa molto presente, sicuramente, nelle case comunque bilingue, dove si parlano più lingue. E anche il discorso che stavi facendo tu sulla struttura della lingua, cioè portare alcune strutture dal portoghese all'italiano o viceversa, che magari poi, quando le dici in italiano e in portoghese, sono un po' strane. Però comunque c'è questo, diciamo, questo portare, no, la struttura da una lingua all'altra è abbastanza frequente. Io l'ho notato con mia sorella, che adesso lei è negli Stati Uniti. Adesso sono dieci mesi che è negli Stati Uniti, sta per tornare in realtà. E proprio qualche giorno fa stavamo parlando, mi stava raccontando una storia e mi fa, mi dice, eh no, perché quel giorno stavo indossando quella maglietta e poi è successo qualcosa. Ovviamente quella è proprio una traduzione diretta, no, dell'inglese I was wearing. In italiano, sì, abbiamo il verbo indossare, ma diremmo avevo quella maglietta, avevo su quella maglietta, ma sicuramente non useremmo il verbo indossare. Quindi questo alla fine è quello che succede quando siamo così tanto esposti ad una lingua, no? Sì, e ti dico un esempio che mi è capitato qualche giorno fa. Ero a lezione, perché sto studiando, sto facendo un master qui in Italia adesso, e era venuta fuori la parola intervento in italiano. E io la dovevo usare e ho detto intervenzione. Ok. Perché? Perché in portoghese la parola intervento ha il suffisso ione, diciamo. Quindi ho fatto una traduzione letterale, diciamo, cioè la parola era, diciamo, in italiano, tra virgolette, però ovviamente un calco dal portoghese. Perché in italiano si dice intervento, sì, sì. Sono cose che succedono, ma che secondo me poi alla fine sono anche divertenti, nel senso, perché ti fanno comunque, appunto, capire che nella tua testa ci sono più lingue che combattono tra di loro, no? Sì, esatto. No, poi un'altra cosa, non so se era tra le tue domande, che secondo me è molto bello, perché diciamo che lo svantaggio, se proprio vogliamo metterlo in questi termini, di essere bilingui comunque dall'infanzia e è una cosa che noto su di me, ma anche di altre persone, è che abbiamo un lessico un po' più ridotto in entrambe le lingue. Boh, forse perché il cervello deve accumulare più lingue, più parole, non lo so. E anche, e capita anche molto spesso con cose come proverbi, detti, cioè io, quelle cose lì che si imparano, perché sei forse immerso nella cultura, o comunque hai vissuto sempre lì, sei, cioè è l'unica lingua che sai, io spesso non le so, cioè un sacco di proverbi, non so finire i detti, sai quando uno, cioè tu inizi a dire un detto e l'altra persona lo deve completare, quello spesso non lo so, ma né in italiano né in portoghese, quindi quello mi capita. Meglio due lingue, meglio sapere due lingue che sapere, insomma, i detti, perché quelli si possono sempre poi imparare col tempo, quindi alla fine chi se ne frega, no? Adesso parliamo un po' dell'Italia, no? Il paese che tutti amiamo e voglio chiederti, c'è un posto, un tuo posto preferito in Italia? Qual è il tuo posto preferito? Il posto proprio che hai nel cuore? Beh, nel cuore in realtà ho la mia città natale, tra virgolette, che è Mantova, dove sono cresciuta. C'è la mia città del cuore, ma perché qua sento proprio di avere le mie radici, perché in Brasile, anche se nel complesso, nel complesso si dice questo? Sì, sì, vabbè. Comunque, cioè, in generale, comunque ho vissuto più tempo in Brasile. Ho vissuto in moltissime città lì, in tutta la mia vita in Brasile. Invece qua in Italia ho passato più tempo a Mantova, quindi la città che ho nel cuore. Però se parliamo di turismo, viaggi, insomma, posti belli da visitare, per me, insomma, è un po' difficile, perché a me piace molto Siena, una città che, dove sono stata molte volte, sempre per turismo, così, per visitarla, e mi piace molto. La Toscana, in generale, è bellissima, è una delle regioni più famose d'Italia. Però proprio Siena, secondo me, è meno turistica, per esempio di Firenze o comunque altre città, altri posti in Toscana. Mi piace molto. Ma, negli ultimi anni, io ho iniziato a viaggiare, insomma, andare un po' di più in Sud Italia. Adesso, diciamo che Napoli e anche la Sicilia, insomma, sono fra i miei posti preferiti in Italia. Tutt'altra cosa, proprio un'altra Italia, un altro mondo, secondo me è un universo molto particolare, insomma, posti unici, ma che meritano, meritano molto. E questo, no, è anche il bello dell'Italia, l'ho detto anche, ne parlavamo, no, durante la scorsa intervista con l'altro ragazzo che ho intervistato qui sul podcast, proprio del fatto che in ogni regione, ok, avrai un'esperienza completamente diversa, no, dal punto di vista culturale, paesaggistico. Però anche l'altra volta, anche nell'altra intervista, mi è stato detto che uno dei posti preferiti era Napoli. Quindi, diciamo, questo è un tema ricorrente, sto notando. Secondo me è una città troppo autentica, non lo so, è unica al mondo proprio. Tu, diciamo che hai sempre comunque vissuto, come ci hai detto, tra i due paesi, però voglio farti appunto questa domanda perché sicuramente sei un'esperta. Ci sono alcune differenze culturali importanti, no, tra il Brasile e l'Italia? O comunque anche alcune cose che forse un brasiliano considererebbe, no, uno sciocco culturale quando viene in Italia? Sì, sicuramente ce ne sono tante, però guarda, io ho cambiato un po' idea quando sono andata a vivere in Olanda perché comunque, secondo me, cioè, per esempio, la cultura brasiliana è più vicina alla cultura italiana rispetto, per esempio, alla cultura olandese e viceversa. Ma ci sono ovviamente tante differenze culturali. Se parliamo di comportamento, vabbè, mangiare, quella è sempre una delle cose principali perché si mangia in modo molto diverso. Poi, per esempio, i brasiliani mischiano tutto nel piatto. E questa è una cosa che mi dà strafastidio. Da questo punto di vista sono più italiana, guarda. Però sì, cioè, quindi questa è una cosa. Poi ci sono altre cose come... che vengono sempre fuori. I brasiliani, quando arrivano qua, notano subito. Per esempio, uscire con i capelli bagnati. In Brasile è una cosa che fanno tutti. In Italia è sempre un po'... insomma, è strano. Che poi un po' si dice, ah, ma perché? Poi stai male, eh? E poi perché non è molto elegante, secondo me, è più quello. Poi, secondo me, i brasiliani qua li riconosci subito perché usano sempre le ciabatte ovunque per uscire. Sai le havaianas che sono le ciabatte, le infradito, quelle lì, brasiliane, li riconosci subito. Questa è una cosa in Italia, a meno che non sei al mare, insomma, un po'... Cioè, anche in estate, per dire, magari ci sono 40 gradi, però... Nessuno mette l'era in fronte per uscire assolutamente. Eh sì, per andare al supermercato, in cibo. No, no, questa è una cosa molto brasiliana. Poi, non lo so, anche i modi di fare, per esempio... Questa è una cosa un po' difficile, anche perché, cioè, in Italia, culturalmente certe cose cambiano anche molto da nord a sud. Quindi, al nord, comunque, la cultura è un po' più fredda, se vogliamo, cioè, rispetto al sud. Cioè, anche a livello di distanza vitale, cioè, il mio spazio vitale. Quindi, secondo me, in nord Italia, per esempio, ci si tocca cameno, cioè, magari abbracciamo le persone, bacciamo le persone, se abbiamo proprio confidenza. Invece, in sud Italia, proprio le persone si avvicinano un po' di più, ecco. E anche in Brasile è così. Quindi, questa è una cosa che noto. Poi, vabbè, per chiudere, l'ultima cosa, perché adesso la sto vivendo, anche a livello di rapporto insegnante-studenti all'università, questa è una cosa che, secondo me, è molto diversa, perché in Brasile tendiamo a essere più vicini agli insegnanti, quindi, proprio, magari, a fare amicizia, c'è meno... C'è più confidenza. C'è più confidenza. E qua, secondo me, c'è più distanza, proprio un ruolo. Ma forse anche per come funziona l'università in Italia, quindi, cioè, l'insegnante è un po' qui, lo studente è qui, c'è più distanza. Anche per dire, in Brasile è un insegnante, io non gli darei mai del lei. Proprio non si fa. Invece qui, insomma, è importante, se no, cioè, non è adatto, no? Non è appropriato. Sei abituata, da un punto di vista linguistico, a dare del lei? Io sì. Infatti, per me è successo un po' il contrario. Quando sono arrivata in Brasile, a scuola mi sembrava strano non dare del lei agli insegnanti. Ah, ecco, vedi. Esatto. Poi, adesso, insomma, sono abbastanza abituata, però a volte, oddio, ho un po' questo conflitto. Però adesso mi è capitato un po' il contrario, perché facendo il master così, ho detto, ma magari vorrei un po' più di confidenza con gli insegnanti. Non so, dipende un po'. Quindi tu sei venuta, vabbè, adesso sei in Italia, per fare questo master nell'insegnamento, mi hai detto, giusto? Sì, è un master in didattica dell'italiano, anche io come te faccio l'insegnante d'italiano. Sì, infatti, non l'hai detto questo. Sì, infatti, infatti. Ragazzi, seguitemi. Esatto, seguite tutti l'italiano con Clara, che appunto è una mia bravissima collega e fa dei contenuti fantastici. Anche se noi abbiamo collaborato tanto, quindi forse già ti conoscono. È vero. Niente, sì, sto facendo questo master in didattica dell'italiano, appunto, cioè, per avere una specializzazione nell'ambito dell'insegnamento. Devo dire che mi piace molto, mi sta dando tanti strumenti, insomma, punti di riflessione per essere un insegnante migliore. Lo finirò tra poco, spero. Benissimo. Come tradizione in questa nuova serie di podcast, facciamo un piccolo gioco. Tu mi dovrai dire qualcosa in portoghese, quindi qualche parola, qualche espressione, e io, anche se non parlo portoghese, devo provare a capire che cosa significa. Quindi speriamo che la vicinanza tra l'italiano e il portoghese aiuti. Non lo so, vediamo, dai. Mettimi alla prova. Sono stata cattiva perché non ho scelto delle parole troppo vicine. Anzi, ho scelto una parola di quelle intraducibili. Cioè, tipo, la parola più famosa, forse, del portoghese è saudagi. È una parola molto famosa perché significa, cioè parla di questo sentimento che abbiamo quando ci manca qualcuno. Però non è proprio, o qualcosa, non è proprio solo nostalgia o mancanza. È una cosa di un po' più profondo. E però non si può tradurre. E questa è la parola più famosa. Non la volevo usare, solo per dare un esempio. Però ho scelto una di queste, che non è che proprio puoi tradurre. Ma io te la dico. Ci proviamo. E tu, tu provaci. Poi ti do la definizione esattamente di cosa significa. Bene. La parola è gambiaha. Oh mio Dio, già è difficile, è proprio anche da pronunciare quasi. Ripetila. Gambiaha. Perché non provi ad usarla in una frase? Tutta in portoghese? Eh sì, dai. Non so quanto potrebbe aiutare però. Ok. Colochei un prego nel cinello per poter usarlo. Qui gambiaha. Sono totalmente perso. Ok. Allora io ti dico la frase perché magari riesci a capire che cos'è. Ho messo un chiodo sulle ciabatte, sull'infradito, per poterle usare. Perché le infradito sono rotte. Ok? E io le ho incollate con un chiodo. Non so se hai l'immagine di questa cosa. Sì, sì, ce l'ho l'immagine. Ok. Che gambiaha. Ah, che bella idea. No. Ok, forse una trovata, no? Una trovata particolare. Ok, sì. Già ci siamo. Ok. Pronto mi hai detto che comunque è intraducibile, quindi non posso darti una traduzione perfetta, però magari una cosa intelligente che ho fatto, no? Tipo un escamotage, no? Alla francese. Sì, ecco. Sì, sì, esatto. Bravissimo. Quindi è una parola che si usa molto per soluzioni, per rimediare qualcosa. Però di solito sono soluzioni un po' scadenti. Cioè nel senso, si usa molto in questo senso. Perché per dire, l'idea di incollare, appiccicare l'infradito con un chiodo, insomma, è una soluzione un po' così. E questo è proprio un concetto brasilianissimo, perché in Brasile si fa molto. Anche questo esempio, cioè un brasiliano l'ha fatto almeno una volta nella vita. Ok. Cioè il fatto di arrangiarsi, diciamo, no? Sì. Non letterale, ovviamente, ma con cui possiamo fare un po' questo paragone. E tutte e due le espressioni, sia in portoghese che in italiano, hanno a che fare, hanno una parola del cibo, hanno a che fare con il cibo. Ok? In portoghese l'espressione è Encher linguissa. Secondo te letteralmente cosa può significare? C'ha qualcosa a che fare con la lingua? No, linguissa. Linguissa è la salsiccia. La salsiccia. Sì. E qual è la prima parola, credo, un verbo che hai detto? Encher. Encher è riempire. Riempire la salsiccia. Sì. Che cosa significa? Dai, fammi un esempio. Cioè, usalo in una... Non lo so. Ok, l'esempio è Preciso terminare di scrivere un testo e non sei o che scrivere. Vou encher linguissa. Ok, quindi devi finire di scrivere un testo ma non sai cosa vuoi scrivere più e quindi devi riempire la salsiccia nel senso che... Cioè, devi dire cose che... Cioè, devi allungare il brodo. Sì, era quella che voleva. Bravo. Ok, fantastico. Allungare il brodo. Dai, bello, bello. Mi sono divertito, devo essere sincero, è stato molto più difficile dello spagnolo, ok? Sì. Però, però, mi sono divertito. Mi hai messo alla prova, proprio una sfida. Bello. Grazie mille per l'invito. Grazie Clara per... Assolutamente è stato un grande piacere per me. Seguite tutti Clara su Instagram. Ti chiami... Italiano con Clara. Ecco, potete imparare tantissime cose con lei. I tuoi contenuti sono sempre molto, molto, molto belli. È sempre... Sai, per me, da quando ci siamo conosciuti è sempre stato comunque un grande piacere, no? Parlarti, eccetera. Soprattutto poi da colleghi siamo diventati anche amici, no? Quindi questa è una cosa bellissima e spero di poterti rivedere adesso che sei in Italia. Sì, anch'io. Sì, ci sentiamo presto, ma dai, spero di sì. Credo di sì. Oh, grazie mille ancora. E ci sentiamo, va bene? Ok, allora prima di finire il podcast vi ricordo che se volete potete scaricare anche la trascrizione parola per parola di questo episodio con anche la spiegazione di alcune parole ed espressioni un po' più difficili e trovate il link per scaricare la trascrizione qui sotto nella descrizione se ci state guardando su YouTube oppure nella descrizione del podcast se ci state ascoltando su una piattaforma di streaming. E niente, abbiamo finito e grazie ancora a Cla e ci sentiamo presto, va bene? Ciao, grazie. Ciao, ciao.